E' stato un incontro molto proficuo, devo dire anche caratterizzato dal fatto di affrontare tematiche che sono ovviamente di grande interesse per il Paese. E qui la sensibilità del Ministro Schillaci è stata molto ampia, soprattutto nei confronti della professione medica e delle professioni sanitarie. Cambiare un sistema piano piano, provando ad intervenire anche sui finanziamenti che oggi sono strettamente correlati con la crisi energetica. Abbiamo rappresentato al Ministro la necessità di puntare sulle professioni. Non è possibile continuare ad investire risorse sul Servizio Sanitario Nazionale senza che nessuna di queste risorse possa andare ai professionisti della salute. Comprendiamo le difficoltà ovviamente che oggi il sistema affronta e che il governo in qualche maniera ha dovuto prendere atto anche dei tempi limitati per l'elaborazione della finanziaria. Però resta naturalmente il disagio profondo della professione medica di non vedersi riconoscere quelle aspettative di cui tutti i professionisti oggi sanitari attendono dal governo. In questo senso abbiamo apprezzato molto la disponibilità del Ministro a voler costruire un rapporto che porti a una rivalutazione delle professioni all'interno del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Lo abbiamo sentito in Parlamento e oggi stesso ce lo ha ribadito con tutta la sua forza. Da parte nostra c'è il sostegno a questo Ministro a voler raggiungere quegli obiettivi di cui siamo fortemente convinti che possono rappresentare la svolta del Servizio Sanitario Nazionale. ossia non ad un'aziendalizzazione così aggressiva, sì invece un Servizio Sanitario Nazionale che metta al primo posto i bisogni della salute dei cittadini e gli obiettivi di salute. Su questo, come dire, c'è ampia convergenza. Ci sarà il tempo per lavorare insieme, ma anche per rappresentare insieme con i sindacati, con le altre professioni sanitarie, tutta l'esigenza della nostra categoria e dei professionisti di chiedere maggiore attenzione, maggiore valorizzazione del nostro ruolo nel Servizio Sanitario Nazionale.